Vice sindaco, un primo bilancio di questa stagione turistica per Forio? Allora, nel momento di grave crisi economica, anche nel settore turistico, devo dire che qui a Forio, come nel resto dell'isola, non si è sentita moltissimo, nel senso che c'è stato sempre un discreto movimento, certamente non è più un turismo di un tempo, è sempre un turismo a mordi e fuggi. Il movimento c'è stato, abbiamo dovuto affrontare le emergenze croniche di Forio, purtroppo quelle legate alla localizzazione del servizio dei mezzi della nettezza urbana, il problema dell'emergenza per quanto riguardava l'inchiesta che ci sta sugli scarichi abusivi. Sono delle emergenze che abbiamo cercato di tamponare e stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione definitiva. Quello che chiediamo è un po' di pazienza da parte delle cittadinanze, dei turisti, perché noi abbiamo rieditato effettivamente una situazione drammatica. La stagione turistica per Forio non era iniziata sotto i migliori auspici, ma i turisti che sono venuti a Forio hanno trovato delle criticità o sono stati soddisfatti dal tipo di accoglienza che hanno trovato? I turisti che vengono a Forio rimangono sempre, diciamo così, estremamente soddisfatti ed entusiasti di quello che è il territorio foriano. Chiaramente noi dobbiamo offrire al turista dei servizi che mancano. Uno dei primi servizi che abbiamo cercato di offrire, e in questo devo ringraziare il commissario dell'azienda di cura soggiorno e turismo, il dottor Domenico Barra, è quello di fornire un infopoint. Mancava a Forio, come il resto di l'isola, un infopoint. È stato realizzato proprio all'ingresso di Forio, è una struttura, anche questa provvisoria, opererà fino ad ottobre, però il progetto è quello di creare un ufficio di informazioni turistico fisso. È un progetto che pensiamo di poter iniziare per marzo, perché la prima cosa che richiedono i turisti che vengono qui è proprio informazioni su quelli che sono i luoghi da visitare, percorsi ed altro. Questa è una grandissima carenza che per un paese turistico è assolutamente inaccettabile e stiamo lavorando per questo, per organizzarlo. Ha detto turisti soddisfatti di Forio, ma Forio è stata soddisfatta dalla tipologia di turisti che quest'anno è arrivata sul suo territorio. Ci sono state tante polemiche in questi giorni. Purtroppo, l'ho detto prima, è ancora un turismo mordi e fuggi. Noi dobbiamo riuscire a riconquistare quello che è il turismo di qualità. Su questo c'è necessità chiaramente della collaborazione anche di tutti quanti gli operatori del settore.